Il digitale e tutti gli strumenti digitali sono dei formidabili strumenti operativi e abilitanti. Ma verso cosa? Un territorio oramai non può prescindere, non può pensare al suo sviluppo, al suo futuro e dei suoi cittadini se non nell'ambito delle sfide 2030, cioè le sfide per una sostenibilità ambientale, economica e culturale. È fondamentale quindi, almeno dal nostro punto di vista, riferire il tema del digitale a un obiettivo comune, a una visione comune, a uno scenario comune. Raggiungiamo degli obiettivi di sostenibilità usando al meglio gli strumenti che la tecnologia ci offre.